Grazie Caro mio Comunque Qualcosa ti è piaciuto? A me? Ti è piaciuto? Certo Te lo devo dire adesso Non sono preparato Mi piglio all'improvviso Sentite mo Dai Prima classificata Di sicuro che che ne dicano gli altri E l'estero Era posizionata benissimo Amplificata bene Poi aveva Un grande diffusore Un bel diffusore Bello esteticamente Non banale Esatto E' al di fuori delle regole Sancite Senti ma il twitter Che poi Lo puoi Modulare in posizione Allora Bello Simpatico E più turismo A parte di sapere che cosa stai facendo Due sono le cose O un audiofilo O un audiofilo senza la minima conoscenza Ma un buon audio Si mette lì e si fa le prove Mezzo millimetro alla volta Così che in due tre anni Riuscirà a trovare la posizione ideale O si fa una rilevazione strumentale a bando Di sapere che stai facendo E qual è il modo migliore Di leggere le misure Rispostare impulso Step response Waterfall Fasi acustiche Tutto molto pittorismo A patto di sapere che cosa vuoi Ti dirò che Con il settaggio che aveva le Wilsonati Almeno le bianche Quelle poi nella sala Nella sala Quelle rosse Magari andavano un filino meglio Le bianche Il setup che c'era sulle bianche Non è che mi abbia fatto vedere La Madonna Com'è ricostruzione Il rispetto dei piani sonori ecc C'è da dire Che erano nuove di pacca Erano nuovissime E erano soprattutto fredde Perché noi siamo entrati Loro hanno aperto Trac E hanno acceso il piano Appena sballato ecc Io non ho mai capito di questo gruppo Chi decide i settaggi Di questo diffusore Chi è che dice Aspetta ora te lo sento meglio Chi è il responsabile Chi è responsabile di questa cosa Tanto è vero Che tutte quelle che ho visto Hanno il settaggio consigliato dal costruttore E d'altronde Sarà di sicuro digno di fiducia Per carità Io ve lo chiederei Guarda me lo chiedi A chi? Vediamo quello che dici Che è il sales manager Però un gamba tecnico di Wilson Audio Ah di Wilson Audio direttamente Si Un uomo di Wilson Audio Sapremo di Saprà bene di che cosa sta parlando Poi se lo sa fare Non per Natale Certo Peraltro se ci lavori ogni giorno Dai Non ne poi Noi vengono a provato Insomma Vabbè Sempre per tornare all'estelon L'ha detto che abbiamo scoperto la distorsione da tam tam Che cosa significa? Ci hanno fatto imprudentemente secondo me Ascoltare un brano Dove c'era un tam tam battuto a mano Un tamburo con le mani sopra Con la parte posteriore della mano che colpisce eccetera Bene, questa porzione di frequenza Era allocata nelle frequenze E diciamo molto basso E medio basso Era allocata nella zona di competenza del medio Del mid buffer Che sta in alto E tenevamo un tam tam di due metri Voglio dire Però erano attimi In un contesto che invece Se non me l'avessi indicato non ci avrei fatto caso Eh lo so ma io ho più esperienza di te No, io non l'ho detto Delusione raido Delusione per le grandi Per le grandi Assolutamente per le grandi Perché invece le piccole morta guerrieri Andavano molto bene Andavano molto bene Un nostalgia Un buon equilibrio tipo Cosa che non aveva Chi è nato così Cioè Molo Mentre l'ho Mentre l'ho Mentre l'ho Per quelle di alluminio Svizzere Piega Ah le piega Le piega La vecchia Le piega Le piega Non avevano una magia Che in genere In ambiente Hanno Come Come Però lì hai visto C'è stato anche Un rimescolamento Delle Delle Camere Delle stanze Delle sale Delle Pochi Delle